Pace bene, buongiorno a tutti voi, bentrovati a questo nuovo appuntamento settimanale con Verso gli Altari. Un bentrovato a Fra Enzio Barbara che è tornato a farci compagnia negli studi. Grazie Nicola, buongiorno a te, buongiorno e pace bene a tutti quanti voi amici di Padre Pio TV. Eccoci, siamo di nuovo insieme per proporre all'attenzione dei nostri amici telespettatori Fra Enzio altre figure sicuramente belle, importanti dal punto di vista della spiritualità in questo cammino di santità, scuola d'amore come ormai siamo abituati a chiamarla che settimanamente vogliamo proporre. Fra Enzio il tema della croce è il cuore, dovrebbe essere il cuore della nostra argomentazione della nostra scuola e quindi lo facciamo subito parlando di una figura che abbiamo già in altre puntate affrontato e conosciuto, la figura di Padre Matteo Dagnone, nostro fratello Cappuccino e a parlarne e lo ringraziamo già e di nuovo in collegamento con noi dovrebbe essere dietro già gli schermi in collegamento con noi, Fra Antonio Tartaglia. Ecco aspettiamo Vediamo nel frattempo che scorre qualche immagine per ricordarci appunto la figura di Padre Matteo Dagnone. Pace bene a te Antonio, bentrovato. Bentrovati a voi, è sempre un piacere vedervi. Allora Antonio, noi riprendiamo questo nostro cammino, come dicevamo poco anzi Nicola mi ha anticipato con la dimensione della croce e non possiamo non farla con una delle figure più illustri come lo è stato Padre Matteo Dagnone in quelle sue prediche quaresimali e in quel desiderio di amore che aveva verso il crocifisso. Approfittiamo in questo momento di fare lezione con te a questa scuola d'amore in questa prospettiva, quindi aiutaci a capire meglio il senso profondo della croce e come appunto Padre Matteo la viveva e la trasmetteva al popolo di Dio. Lezione è una parola un po' grande con me, noi prendiamo lezione da chi ci ha preceduto, quindi in questo caso da Padre Matteo, da tantissime altre figure di santità che ci hanno preceduto e che sono stati innamorati della croce, ma non una croce fine a se stessa, una croce mortificante o una croce brutta, perché giustamente la parola croce è una parola che ha un'accezione un po' bruttarella, insomma, a chi piacciono le croci? Don Tonino Bello diceva le appendiamo alle nostre case, le portiamo al nostro collo, ma nessuno le porta invece veramente degnamente. E Padre Matteo, come hai ben detto, ha predicato tantissimo, soprattutto sia alle quaresime, sia nei sermoni e in quelli che erano i paneggirici che venivano fatti per la settimana santa, a Serra Capriola, a San Severo, a Basto, ha girato un sacco per predicare. E riportava l'immagine del Cristo crocifisso, senza ricorrere, dice lui, a pietismi sterili o baroccheggiamenti praticamente, ma riportandola con i piedi per terra, nell'attualità di ognuno di noi, cioè ognuno di noi deve guardare la croce non solo per commuoversi, benvenga, le lacrime anche sono un dono, ma deve muovere qualcosa dentro di noi, proprio perché Cristo salendo sulla croce ha mosso, ha cambiato, ha stravolto la nostra vita, ha dato un giro di chiave particolare che ha dato un nuovo gusto alla nostra vita, ci ha redenti sulla croce, non ci ha lasciati come eravamo prima, non ci siamo fatti solo un bel pianterello, non ci siamo emozionati davanti alla croce, questo dice Padre Matteo. E quindi allo stesso tempo anche noi, vivendo la croce, ma non come cosa negativa, perché Padre Matteo vede la croce come il luogo dei sacramenti, cioè noi nei sacramenti ritroviamo la croce, in effetti noi nell'Eucarestia cosa troviamo? Annunciamo la tua morte o Signore, proclamiamo la tua risurrezione. Nella confessione, nella riconciliazione cosa vediamo? Per i meriti del sangue di Cristo che ci ha redenti noi veniamo perdonati, riceviamo la misericordia di Dio. Quindi in questi momenti noi siamo sotto la croce, dice Padre Matteo, e come Cristo ha cambiato il mondo dalla croce, anche questi sacramenti devono cambiare la nostra vita e il nostro modo di agire e di vedere. Quindi in questo senso lui dava la svolta di questa visione centrale della croce per ogni cristiano. In alcuni libri che Padre Cipriano ha pubblicato, ovviamente riportando dei contributi di alcuni teologi, tipo per esempio Pitta o altri teologi, Gambaro, tutti teologi di un certo spessore, che hanno anche nella settimana di studi che è stato fatto nel lontano 2008, ha riportato alcuni slogan, alcuni moti che venivano ripresi e ve ne leggerei uno, per esempio il crocifisso è lo specchio nel quale si riflettono la potenza, la sapienza, la bontà, la giustizia, la generosità e l'amore di Dio. Quindi questo è per farci vedere cos'è, ma è anche lo specchio nel quale ognuno di noi guarda le macchie dei propri vizi. Ovviamente non fine a se stessi, guardiamo le macchie e basta. No, le guardiamo per poter vedere cosa dobbiamo togliere di mezzo dalla nostra vita, che non va. Quindi è una, Gambaro dice anche una cosa che abbiamo sempre detto pure noi, un'attualità del messaggio sempre tante volte spiazzante, perché non rimaniamo solo lì incantati sotto la croce, che è una bella cosa contemplare la croce, ma deve portare frutto. È l'albero della vita la croce, quindi non l'albero della morte. Ecco, Fra Antonio, abbiamo parlato di un messaggio che sicuramente, come hai anche anticipato, è tutt'oggi attuale. E stiamo parlando di un frate che è vissuto tra il 1500 e il 1600. Ecco, delle figure così lontane nel tempo, tra l'altro caratterizzate da una umiltà davvero profonda, che ancora oggi hanno tanto da dirci. Già questo di per sé fa riflettere, vero? Sì, sì. Ci fa riflettere perché lì vedi quanto un messaggio è veramente, viene da un cuore che è stato animato dalla parola di Dio, che è stato fecondato dalla presenza di Cristo. Perché tanti hanno parlato nella storia, tanti hanno detto, tanti dicono ancora, però sono parole che lasciano il tempo che trovano, che vanno via, che vengono dimenticate. Oppure, soprattutto, uno può dire, le ricorda, però dice, queste parole andavano bene per un tempo. Invece, quando veramente le nostre parole, come le parole di tanti santi, di tante figure belle che veramente hanno incarnato Cristo sulla faccia della terra, ecco, profumano di Cristo. E quando una cosa è bella e profumata, vale sempre. È come quei profumi che non perdono mai la loro fragranza. Ecco, Antonio, richiamando un pochettino quell'immagine che facevi, bellissima, perché è anche attuale, è stato un trattato, potremmo dire così, anche di altri santi. Quello della croce come specchio. A me, appena parlavi, mi tornava molto in mente anche la figura di Francesco da Sisi e di Pio da Pietrelcina, che veramente il Signore si è riflesso in loro. Quindi hanno avuto l'opportunità di, ecco, di riportare, come dicevi tu poco anzi, la persona di Gesù, crocifisso. Quindi quel crocifisso che è allo stesso tempo risorto, che porta i segni delle piaghe, ma che appunto viene a portare un messaggio, che è un messaggio sicuramente di speranza e di pace, di cui oggi ce n'è molto bisogno. Certo, certo. Perché noi dobbiamo guardare, appunto, per guardare oltre. Non dobbiamo guardare, fermarci ad oggi. Perché se ci guardiamo e vediamo, lasciamo stare il periodo che stiamo vivendo, che è un po' particolare, ci vengono solo notizie negative, ma nella vita di ciascuno ci sono alti e bassi. Ma se ti fermi solo davanti a quel problema, sì, puoi guardarlo, però devi guardarlo per risolverlo. Ovviamente sono, ma non solo problemi spirituali o problemi del peccato, problemi inerenti la fede o la vita morale di una persona, ma tutto. Perché il cristianesimo deve essere totalizzante, la fede deve essere totalizzante, ti deve portare e ti deve spingere a vivere bene. Perché il Signore ci ha redento per essere felici e sereni, non per essere tristi e cupi. Quindi ci dà una, ecco, una spinta particolare. Ecco, correggimi anche se sbaglio, all'epoca di Padre Matteo Dagnone sicuramente la predicazione, come era solito per i nostri cappuccini, si rappresentava anche plasticamente con la croce, no? Quando si predicava si teneva la croce tra le mani, no? Sì, 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 i predicatori portavano la croce tra le mani. Infatti in molte prediche di Padre Matteo viene messo, evidentemente chi ha riportato queste prediche, poi lui stesso c'è il momento in cui, ecco, dice mostrando la croce. È ovvio che non è che lo sta dicendo Padre Matteo in quel momento, non è che lo dice chi predica. No, è perché il predicatore in quel momento, mentre diceva quella cosa, mostrava la croce o avvitava la croce. Oppure proprio nelle espressioni tu ti accorgi che lui sta mostrando qualcosa, come farebbe chi ha in mano un oggetto, ha in mano un qualcosa da mostrare. Especialmente quando parla in un'omelia dice la croce come libro da leggere. E quindi dice guardate questo libro, evidentemente lì sta mostrando la croce, sta mostrando Cristo crocifisso. Ecco, hai citato, Fra Antonio, alcune frasi tratte dalle omelie, dagli scritti che riguardano Padre Matteo. Ma c'è un'annotazione in particolare che magari avrai avuto occasione di leggere che ti ha colpito particolarmente? Sì, soprattutto quello di una delle fonti cappuccine, poi è stato anche riportato in uno dei testi pubblicati da Padre Cipriano. Praticamente quando lui parla, quello che dicevo Pocanzi, di Gesù Cristo sulla croce come un libro. E' un libro che citava proprio, adesso non ho qui la citazione con me, ma ve la posso riportare. E' come quando viene chiesto al profeta di mangiare il rotolo del libro, che ovviamente in bocca può risultare amaro, ma poi diventa dolce per le nostre viscere, come il miele. In effetti così è questo libro, diceva, è amaro ai nostri occhi, è amaro ai nostri sensi, ma se realmente lo leggiamo bene dal suo interno, ne riceviamo tutta la dolcezza. In effetti se noi guardiamo il Cristo crocifisso, cos'è? E' un uomo esanime, battuto, martoriato, inchiodato a una croce, con una morte infamante. E' crudo come immagine, brutta. Però se leggiamo all'interno di quel libro il vero significato, noi troviamo il significato, il senso della nostra redenzione. Troviamo l'amore, troviamo il costato aperto di Cristo, troviamo il suo cuore che già palpita per noi. E questo ci fa diventare dolce questa amarezza e rende dolce la nostra vita. Noi ti ringraziamo davvero di cuore, Fra Antonio, per averci dato l'opportunità anche quest'oggi di parlare di Padre Matteo. Torneremo sicuramente anche su questa figura, vero Fra Ezio? Certo, Antonio noi ti ringraziamo nuovamente, sicuramente tieniti sempre impegnato per quando avremo bisogno anche della tua parola, anche della tua condivisione. E concludiamo questo momento prima di dare lo spot, proprio dicendo che sotto la croce veramente si impara ad amare. Si impara ad amare, come diceva il Santo Confratello Sant'Io. Grazie ancora Fra Antonio. Grazie a voi. Ci fermiamo solo per qualche istante, poi torneremo insieme per proseguire questo nostro cammino verso la santità. Bene, torniamo in studio per proseguire parlando ora di un cappuccino dei nostri tempi, legato a Padre Pio, legato al Santuario della Vergine di Pompei. Si tratta di Monsignor Francesco Saverio Toppi, di cui vediamo questa clip. Francesco Saverio Toppi nasce in un borgo rurale in provincia di Napoli il 26 giugno 1925, in una famiglia contadina robusta nella fede, dove trascorre un'infanzia caratterizzata da un'estrema vivacità tale da far spesso tribolare i suoi familiari. Intelligente e brillante nei risultati scolastici durante la preparazione per la prima comunione concepisce l'idea di farsi monaco. Questa decisione viene inizialmente sottovalutata dai genitori, che conoscendolo per il suo carattere imprevedibile non vi danno alcun peso. Ma il 19 ottobre del 1936 entra nel seminario serafico di Sant'Agnello di Sorrento e nel 1940 termina gli studi ginnasiali nel seminario vescovile di Pozzuoli. Continua i suoi studi liceali tra Avellino e Nola, dove completa gli studi teologici. Nello stesso anno è accolto nel noviziato dei frati minori Cappuccini ed emette successivamente la professione perpetua. Riceve l'ordinazione sacerdotale il 29 giugno 1948. Lo studio prima e l'insegnamento poi lo vedono impegnato all'Università Gregoriana di Roma, dove si laurea in storia ecclesiastica. Materia che in seguito a Napoli insegnerà. Si distingue come un colto intellettuale raffinato, si diploma in archivistica. L'ordine gli affida responsabilità e autorità che accetta con obbedienza. Innamorato di Cristo, fa di lui il centro e il riferimento della sua vita. Celebrare il mistero eucaristico sarà per lui fino all'ultimo giorno e il dono meraviglioso posto nelle mani del sacerdote. A volte sprofonda nella contemplazione, tanto da far durare troppo a lungo la celebrazione eucaristica. Celebrando il sacramento della riconciliazione è totalmente assorbito dal Signore, quasi accorgendosi di non essere lui a parlare. Riguardo a questi fenomeni, la sua più grande sofferenza è la paura di ingannare se stesso e soprattutto le anime. Si consiglia con alcuni direttori e maestri di spiritualità, tra i quali Dondo Lindo Ruotolo e Padre Pio, che incontra San Giovanni Rotondo nel 56. È il 13 ottobre 1990 quando Papa Giovanni Paolo II lo nomina arcivescovo prelato di Pompei e delegato pontificio per il santuario mariano. Si presenta all'appuntamento dell'ordinazione episcopale privo di ogni segno esteriore di ricchezza. Lo stile di vita povero del frate Francesco Saverio è continuato anche dal vescovo Francesco Saverio. Leggendo i suoi scritti e ascoltando coloro che lo hanno conosciuto si ha l'idea di un uomo ricolmo di Spirito Santo che ha trascorso la sua esistenza nell'impegno per far spazio nella sua vita a Gesù, per imparare da lui a guardare la realtà con gli occhi del padre. Morì il 7 aprile del 2007. Per sua volontà sarà sepolto nella cripta del santuario della Beata Vergine di Pompei per fare da piedistallo sotterraneo al trono di Maria. Ed ecco ritorniamo a parlare di questa figura, Nicola, piccolo di statura ma grande di cuore. È appunto la figura di Monsignor Saverio Toppi, il nostro fratello Cappuccino Saverio Toppi e a parlarne con noi ci sarà nuovamente padre Massimiliano che dovrebbe essere in collegamento con noi, lo vedremo a breve sullo schermo. Padre Massimiliano benvenuto, bentornato in mezzo a noi. Salve, salve, buongiorno, buongiorno. Pace bene padre Massimiliano. Padre Massimiliano allora ritorniamo a parlare di padre Saverio Toppi e lo facciamo, lo dobbiamo fare parlando di lui come un innamorato di Dio. Aiutaci ad entrare in questo grande disegno. Sì, sì. Noi sappiamo che i cardini della vita di Monsignor Francesco Saverio Toppi sono tre fondamentalmente. Anzitutto l'Eucaristia, Maria Immacolata e San Francesco d'Assisi. Relativamente all'Eucaristia, Monsignor Toppi pensate che aveva nel suo studio dove nell'episcopio di Pompei aveva il tabernacolo con Gesù esposto 24 ore su 24 ore e lui ecco che si preparava davanti a Gesù sacramentato. Le lettere circolari, i messaggi della Madonna di Pompei, insomma lui ha lasciato 55 messaggi relativi alla Madonna del Rosario e 24 lettere pastorali. Tutto questo si è preparato sempre davanti all'Eucaristia nel suo studio. Maria Immacolata poi, ecco l'altro cardine della vita di quest'uomo. Nel nono diario lui scriverà addirittura di conoscere il suo nome e dirà io sono peccato, anzi lui dirà io sono la personificazione del peccato. Quindi aveva una consapevolezza di essere povero agli occhi del Signore che è tipicamente francescana. Ecco perché anche il testo che ho scritto, questo piccolo puscolo che ha voluto il bescopo e che adesso va in ristampa, è intitolato Piccolo Testimone della Carità di Dio. Piccolo perché lui, come scrive nel suo diario, si concepiva proprio di bassa statura, ma perché voleva accogliere dentro di sé l'umiltà di Maria, fare spazio a Maria, fare vuoto a Maria. E poi l'ultima caratteristica della spiritualità di quest'uomo, non perché ultima, ma perché sullo stile proprio francescano, è che è innamorato di San Francesco. E qui ciò che lo rende, e questo lo rende vicino alle periferie esistenziali. Ricordiamo che due sono stati i cardini della vita del nostro serafico padre Francesco D'Assisi, è l'incontro con il crucifisso di San Damiano e l'incontro con i lebrosi. Dopodiché lui stette un po' e uscì dal mondo, come dice Tommaso D'Acelano, e incominciò a visitare i lebrusari e a fare carità con i lebrosi. Ecco, Monsignor Francesco Savero Toppi, il venerabile Toppi, incomincia ad avere un'attività intensa, soprattutto verso le attività del santuario di Pompei, che sono improntate alla spiritualità proprio dell'abbiato Bartololombo. E quindi Monsignor Toppi visita gli ammalati, i carcerati, le donne gravide, gli orfanelli. Quindi una spiritualità vicina alle periferie esistenziali. Ecco, anche questo lo rende ancora più povero, a tal punto che lui dice, ecco, l'anima mia magnifica è il Signore e vuole attirare su di sé lo sguardo di Dio, ecco, rivestendosi di questa umiltà di Francesco D'Assisi e anche dello stile di Maria. Lui che a Palermo lo chiamavano addirittura, lo prepeta tutto Mariano, tutto innamorato della Madonna, ecco, nel dialetto proprio palermitano. Lo prepeta tutto Maronna, gli dicono. E questo è un tratto distintivo che sicuramente lo lega a maggior ragione con Padre Pio. A questo proposito cosa puoi dirci? Lui, vedete che negli anni 56-59 sono stati gli anni più difficili della vita del venerabile Monsignor Toppi, perché è il triennio ricco di doni carismatici. E quando dico doni carismatici mi riferisco a quelli che sono stati sottolineati dalla Santa Madre Chiesa. Ecco, e quindi quali sono la leggerezza del corpo, le locuzioni interiori, i rapimenti estatici, la limitazione. Toppi aveva paura, ecco, non riusciva a capire quello che succedeva nel suo corpo, nel suo animo. Ecco perché aveva paura, come è stato detto anche nel clip che è stato visto all'inizio di questo documentario, aveva paura di ingannare le anime. Allora si lega da Padre Pio e gli chiede a Padre Pio che cosa stesse succedendo nella sua vita. E Padre Pio dice, non ti accorgi che è Dio? La seconda volta che va, Padre Pio gli dirà, pensa ad amare Gesù. E l'ultima volta che andrà, Padre Pio gli dirà, io ti voglio come mio figlio spirituale. E io e te faremo cose grandi. Quindi, insomma, tutto questo poi avallato anche da un grande sacerdote napoletano, della spiritualità napoletana, visto che ci troviamo nel territorio nostro, no? Don Dolindo Ruotolo, il quale è servo di Dio. E Don Dolindo gli dirà, ecco, ic digitus est, qui c'è il dito di Dio in quest'uomo. Glielo dirà proprio davanti. Gli incontri avuti anche con la reverenda madre Anna Maria Canopi, fondatrice dell'Abbazia Matera Ecclesia, insomma, tutti questi grandi esponenti della spiritualità cristiana fanno capire che quest'uomo non soltanto faceva seriamente, ma era alla ricerca veramente di Dio, con tutta la sua mente, con tutta la sua volontà, con tutte le sue forze. E Padre Pio lo ha rassicurato in questo, quando gli disse io e te faremo cose grandi. E mi sembra che questo oggi, con il decreto di venerabilità che verrà letto al santuario di Pompei, sia una testimonianza alquanto eloquente, visto che i teologi all'unanimità hanno espresso che quest'uomo veramente ha esercitato le virtù in grado eroico, sia umani che anche quelle cristiane. Ecco, grazie Padre Massimiliano di questa bella condivisione e testimonianza. E noi abbiamo i cuori intrepidanti proprio, trepidanti, pieni, pieni, ricchi d'amore, soprattutto per quello che accadrà oggi. Che aria si inizia a respirare lì? È un'aria di festa, è un'aria di festa. Verranno diversi vescovi alla celebrazione, annunzi apostolici, quindi è un momento di grande gioia, anche per i fiumi d'acqua viva, che è l'associazione nata in seguito alla morte di Monsignor Toppi e all'apertura del processo. Quindi siamo tutti in fermento in questo momento, sia nell'ordine francescano, specificamente la porzione dell'ordine francescano che è Basilicata Campania, ma anche per Pompei, per il santuario di Pompei, per i sacerdoti che già stanno contattando. Ma tutta la Madre Chiesa festeggerà, tutta la Madre Chiesa, tutti i cristiani dovranno festeggiare una bella figura come questa. Sì, sì. Sicuramente. E anche un grande invito per tutti i vescovi, visto che è stato vescovo Monsignor Toppi, quindi a come è svolgere il proprio servizio alla Santa Madre Chiesa con uno spirito di umiltà, con uno spirito di prossimità e di inclusività. Benissimo, grazie davvero di cuore a Padre Massimiliano, l'occasione ci è gradita per salutarti e per rinnovare l'invito a partecipare al nostro programma nel più breve tempo possibile. Grazie di cuore, pace bene. Porta il nostro saluto ecco lì alla città di Pompei, sicuramente ci sarà qualcuno che sarà collegato anche di lì. Grazie. Pace bene, pace bene. Allora Fra Ezio, abbiamo parlato di quest'altra straordinaria figura, noi ci fermiamo per un'ulteriore e pausa e poi torneremo con l'ultima proposta che vogliamo fare quest'oggi, davvero bella e importante soprattutto per l'attualità che stiamo vivendo. Lina la Legia. Torniamo insieme e proseguiamo ora introducendo un'altra figura di Santità, ormai sicuramente avviata questa figura come dicevamo in un cammino davvero importante. Parliamo del beato Tito Bransma di cui vediamo anche in questo caso una clip introduttiva. Tito Bransma nacque in una famiglia contadina e dalla solida fede il 23 febbraio 1881 nel nord dell'Olanda. Era un bambino vivace e intelligente, ma dalla salute delicata. A 17 anni entrò nell'ordine dei frati carmelitani e l'anno successivo andò a Roma per studiare alla Gregoriana. Un'ulcera gastrica lo constrinse a letto, ma nonostante la malferma salute cercò sempre di essere fedele in tutto. In Olanda, oltre che all'insegnamento, si dedicò al giornalismo, diventando assistente ecclesiastico dell'Associazione dei giornalisti cattolici, un incarico questo che tenne fino alla morte. Nel 1940 i Paesi Bassi furono invasi e occupati dai nazisti e a causa della sua attività fu sempre sotto controllo. Quando ai giornali e periodici arrivò l'ordine di pubblicare solo avvisi e dichiarazioni ufficiali, per padre Tito non poteva che esserci opposizione. Spiato da tempo, all'alba del 19 gennaio 1942, la polizia politica lo arrestò nel convento di Boxmer e rinchiuso nel carcere di Scheveningen. Il 12 marzo 1942 venne trasferito ai lavori forzati, subendo umiliazioni e sedizie di ogni genere. Dopo vari trasferimenti in diverse prigioni fu condotto al campo di concentramento di Dachau, dove restò poco più di un mese. Padre Tito è destinato al blocco numero 28, dove incontra un giovane carmelitano olandese. Gli venne assegnato come lavoro di fare un paio di chilometri camminando per togliere dal terreno sassi ed erbacce, per preparare un terreno adatto a piantare erbe o piante medicinali. Doveva alzarsi alle 4 del mattino e marciare o cantare lungo la strada. Ritornavano le 11.30 per il pranzo, che era una zuppa di patate. Padre Tito, mentre percorreva la strada, ascoltava qualche confessione o recitava il rosario, cercando di rincuorare la fede di chi gli si avvicinava. Spesso poté comunicarsi. Era di fatto affaticato, sfinito e stanco da morire, ma sempre, a detta di un testimone, fermo e gentile. Verso la metà di luglio venne finalmente esonerato dal lavoro. Lo portarono all'ospedale. Fu messo nella lista di quelli che dovevano morire. Un infermiere olandese, che doveva curarlo e che fu aiutata dalla preghiera e dalla parola del padre, attesta. Padre Tito è stato due giorni senza conoscenza. Poi il medico mi disse di fargli un'iniezione. Egli morì alle 2 del pomeriggio. La notizia si sparse nel blocco 28. Padre Tito era morto. Tre giorni dopo il cadavere fu portato nel campo crematorio. Fu comunicata alla famiglia la notizia. Molti hanno testimoniato di lui, cattolici e protestanti, ai processi di beatificazione. Il 3 novembre 1985, padre Tito è proclamato da Giovanni Paolo II beato, riconoscendo l'eroicità e il martirio di quest'uomo testimone della fede. Questi alcuni cenni biografici dunque dell'esperienza terrena di padre Tito. Noi abbiamo in collegamento telefonico padre Fernando Milan, meglio siamo in collegamento video perché padre Fernando si trova in Spagna ed abbiamo anche l'opportunità quest'oggi di vederlo. Dicevo padre Fernando Milan che è co-vice postulatore della causa del beato Tito Bransma. Benvenuto tra noi padre Fernando. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Grazie. Ecco abbiamo detto dell'attualità del messaggio di padre Tito in un'Europa che continua purtroppo ad avvertire eventi di guerra. Una realtà quella che ha vissuto padre Tito forte, davvero drammatica. Cosa possiamo dire dell'attualità del suo messaggio? Sì, penso che purtroppo è molto attuale. Dico purtroppo perché un'altra volta in Europa stiamo vivendo questa situazione di violenza, di guerra terribile, di persone che devono fuggire delle loro case e in questo contesto evidentemente la figura del padre Tito, un apostolo della pace, della riconciliazione, è una figura di una grandissima attualità. Lui è stato capace di confrontarsi veramente con la politica del tempo, con questa tendenza orribile a distruggere le persone, le città, le vite. Dunque è una figura veramente molto attuale purtroppo. Ecco un'attualità del messaggio che ormai dicevamo anche fra Ezio, avviata davvero verso la santità. Padre Fernando, ecco sappiamo che c'è una data importante che lo riguarda a questo proposito. Sì, il prossimo 15 maggio avremo la canonizzazione di padre Tito, una canonizzazione che da lungo si aspettava, è stato un processo molto lungo perché è stato il primo processo, non la prima beatificazione, ma il primo processo di un martire del nazionalsocialismo. Papa Giovanni Paolo II è stato molto profondo nella sua omelia di beatificazione perché ha insistito che non è soltanto la fine della vita del padre Tito a Daha, una morte terribile, ma anche tutta una vita di servizio, di apostolato, di preghiera, di una vita interiore molto curata. Papa Giovanni Paolo diceva che una eroicità così non viene all'improvviso, è il frutto di tutta una vita spirituale. Ecco padre Fernando, questa puntata sta andando sulla linea di una figura particolare che è quella proprio della croce che ci sta accompagnando nella giornata di oggi. Ecco nella clip sentivo, no, mi ha colpito molto quella che era inserito nella lista di coloro che dovevano morire. Io ci aggiungerei nella lista di coloro che dovevano morire per amore perché appunto si sentiva nella clip anche che nonostante la sofferenza che viveva il padre Tito è continuato, ha continuato ad essere gentile. Ecco dici un pochettino questo uomo che è andato fino in fondo, ecco, forse è il termine più giusto per indicare questi uomini che muoiono per amore, andare fino in fondo. Sì, sono contento che il programma di oggi è su questo tema della croce centrale nella nostra fede evidentemente perché padre Tito ha scritto due commenti alla via Crucis, uno nel 1921 per i dipinti di un pittore che è stato un po' polemico, lui ha fatto un commento a questi dipinti e il secondo proprio in carcere ha scritto un commento alle stazioni della via Crucis nel quale manca la quattordicesima questa azione, forse perché neanche lui ha avuto una sepoltura, una tomba, è stato incinerato, bruciato come si facevano i campi di concentramento. Mi piace moltissimo la vostra riflessione perché veramente parlare della croce oggi sembra sia una cosa, non so, macabra, negativa, invece il suo amore per la croce per la passione si è tradotto in un atteggiamento di gentilezza, di fraternità, di umanità anche nei campi di concentramento. È ricordato per questa sua tenerezza, diciamo, verso tutti, non voleva parlare male dei BSS, è stata una persona veramente in questo senso evangelica, con i valori più genuini del Vangelo. Ecco, vorrei dedicare questi ultimi minuti a nostra disposizione per un altro aspetto fra Ezio, padre Fernando, che è trapelato anche nella clip introduttiva, questo suo essere punto di riferimento nell'ambito dell'informazione, l'informazione cattolica, il giornalismo che ha tanto da imparare da questa figura, soprattutto per ciò che concerne i condizionamenti che spesso l'informazione subisce. Padre Tito è stato anche un martire sotto questo punto di vista, proprio per tenere fede ai propri ideali e ai propri valori. Sì, ancora una volta il Papa Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, in una recezione che ha avuto con giornalisti a Roma, l'ha chiamato martire della libertà della stampa. Poi è rimasta un po' questa fase, è rimasta nella nostra memoria. Ancora in questo tema la sua figura, la sua testimonianza di una grande attualità, perché in questi tempi di fake news, di lobby, nei quali l'informazione sembra un'arma più di un servizio alla gente, Padre Tito è stato un testimone veramente appassionato per la stampa. Lui era un giornalista professionale, ha lavorato come direttore di un giornale, un giornale non religioso, normale. Allora è stata una persona molto legata ai giornalisti, grande amico dei giornalisti e penso che anche in questo ambito la sua figura... Lui ha riflettuto molto sul ruolo della Chiesa nel giornalismo dei nostri giorni, nella comunicazione, nei mass media. Allora sì, sì, anche in questo campo è una figura veramente straordinaria. Lui si sentiva giornalista, io sempre dico che era la sua seconda vocazione, la prima sacerdote carmelitana evidentemente, la seconda giornalista. Amava i giornalisti. Ecco, io direi, Padre Fernando, una libertà di stampa che è l'augurio che facciamo anche ai nostri giornalisti tutti a livello mondiale, ma anche in particolare a quelli che svolgono qui in Padre Pio TV questo ruolo, dei giornalisti che hanno una libertà anche di stampa, una libertà di parlare, che si concilia però, ecco, Padre Tito questo ce lo insegnerà sicuramente, con la verità, perché non esiste libertà senza verità. E quello è il principio di base che accompagna, io penso, il giornalista, ma penso ogni cristiano. Infatti lui ha un altro motto che si è ripetuto molto, dopo le chiese i giornali dovrebbero essere la cattedra della verità. Per lui era un servizio umile, un servizio fraterno alla verità e un servizio anche coraggioso, perché veramente questo è stato il motivo concreto per il quale lui è stato arrestato e ha dato la sua vita, cioè il motivo concreto penale, diciamo, era il motivo della stampa. La propaganda nazista. Ecco, Padre Fernando, oggi abbiamo voluto soffermarci su questa figura, ma appunto attendiamo anche noi, sicuramente con gioia alla data del 15 maggio, sarà l'occasione anche per tornare a parlare di lui. Intanto grazie davvero di cuore, buon lavoro. Grazie a voi, è stato un piacere, grazie, buon servizio anche alla verità e all'informazione. Grazie, grazie di cuore. Allora Nicola, ecco, l'augurio più bello ce l'ha dato appunto Padre Fernando, che è un augurio che facciamo a tutti i giornalisti nel campo mondiale, soprattutto anche in questo periodo così difficile. Lo facciamo ai nostri giornalisti di Padre Pio TV, tutti coloro che ci stanno seguendo. E l'augurio è proprio questo, no? Una libertà che però si esprime nella verità. E la verità, sappiamo, non è un concetto astratto, non è filosofia, ma è una persona anche concreta. Concreta. Vere e propria, no? Lo dirà il Signore, lo dirà appunto anche nel Vangelo di Giovanni, io sono la via, la verità e la vita. Quindi, ecco, grazie per il lavoro veramente che svolgete, che svolgono tutti i giornalisti a livello mondiale e dobbiamo, penso, concludere il nostro programma come sempre, augurando ai nostri spettatori, amici soprattutto, l'augurio di pace e bene a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.